Sono Giancarlo Ressani, sono nato a Trieste il 25 agosto 1982, sono laureato in giurisprudenza. Credo fortemente nella necessità di costruire insieme la Trieste del futuro, europea, culturalmente viva, economicamente dinamica, per dare alle tante ragazze e ai tanti ragazzi come me un futuro e la possibilità di costruirsi una famiglia. Mi impegno in caso di elezione ad un incontro pubblico mensile con i cittadini al fine di dare voce alle loro esigenze, critiche e istanze. Datemi una mano per il Consiglio Provinciale di Trieste, votate il Partito Democratico, votate Giancarlo Ressani.